Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora, il conflitto tra Ucraina, parentesi o neanche parentesi, Stati Uniti e Russia potrebbe avere una svolta ed una conclusione verso fine anno, più probabilmente verso i primi mesi del 2025. Questa è ovviamente una mia supposizione, una mia idea, però chiaramente confortata da quello che sta succedendo in Occidente, da quelle che sono i rumors, le proposte che ci sono. Per la prima volta si parla di negoziati, per la prima volta si parla di uno scambio, per la prima volta non si parla più, e questo voglio dire perché l'hanno capito ormai anche i bambini, non si parla più che l'Ucraina può vincere perché non sarà mai così, perché è assolutamente improbabile. Cos'è che si sta mettendo sul piatto delle trattative, sul tavolo delle trattative? Il fatto che l'Ucraina non debba aspettare come prevederebbe lo statuto della Nato per entrare anni e anni, perché se dovessimo seguire l'iter che ci vuole dopo la domanda per entrare nella Nato, ci vorrebbero molti anni perché questo succeda. Invece no, l'idea potrebbe essere quella di far entrare immediatamente l'Ucraina nella Nato, quindi in qualche modo scambiare territori per sicurezza. L'Ucraina avrebbe la sicurezza e l'appoggio ovviamente non da poco della Nato, dal punto di vista militare, per eventuali future paure, perché si è continuato a dire, ma intanto il cedere i territori non porterebbe a nulla perché un domani poi Putin potrebbe nuovamente attaccare l'Ucraina per allargare il suo orizzonte di potere su quel paese, se non addirittura prendersi tutto il paese ed altri paesi. È evidente che facendo parte della Nato, siccome voglio dire non penso proprio che Putin sia uno stupito, Putin mai si metterebbe contro militarmente gli Stati Uniti e tutta la Nato, perché insomma capiamo che sarebbe un conflitto che non si sa dove andrebbe a finire, o meglio lo sappiamo perfettamente e non converrebbe a nessuno. Ecco che quindi la possibilità che dopo, questo ovviamente non è qualcosa da trascurare, dopo le elezioni, se ovviamente ancora di più, non solo ma ancora di più, se dovesse vincere Donald Trump. Ma anche secondo me se vincesse Biden ormai ci sono alcune cose che sono chiare a tutti e ci sono le ammissioni. La più importante, l'Ucraina, non può vincere questa guerra. E allora cosa facciamo? Dobbiamo portarla a una certa conclusione. La seconda cosa certa, impossibile recuperare i territori che in questo momento ha conquistato la Russia, se non con un terzo conflitto mondiale che ovviamente nessuno vuole. ci sono stati dei folli che hanno fatto o proposto delle manovre tipo la Francia di mandare soldati nati Nato in Ucraina, ma in linea generale voglio dire, poi prevalgono in questo caso sempre le colombe, nessuno vorrebbe una cosa del genere. E quindi è evidente che l'unica vera e in questo momento sensata proposta sul tavolo che davvero potrebbe convincere da un lato il popolo ucraino, no? Perché è di tutta evidenza che il popolo ucraino vuole tornare a vivere in serenità, in pace. E avendo questa possibilità di aderire nell'immediato alla Nato e avere questo scudo protettivo non è una cosa da poco. E dall'altra ovviamente la Russia vincerebbe la guerra perché si porterebbe a casa i suoi territori senza però poter avere l'illusione a patto che lo fosse. Attenzione, io non sono di quelli che è convinto che una volta conquistato il territorio del Donbass Putin avesse l'idea di conquistare tutta l'Ucraina, magari anche la Moldavia, la Polonia. Però questa per me era propaganda da parte dell'Occidente. Non ne sono assolutamente convinto. Staremo a vedere. I mesi ce lo diranno ma anche le settimane perché se questa voce dovesse sempre più intensificarsi e sempre di più puntare su questo addirittura potrebbero anche essere anticipati i tempi. Con questo vi lascio, vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo stasera.